Abbiamo qui con noi Anitta Muraro dell'Under 16 dell'Asiago e il coach liberatore della nazionale italiana. E Anitta, com'è stato l'allenamento con l'Italia? Beh, mi è piaciuto un sacco, mi sono divertita molto. Quindi delle belle emozioni ha venuto, vero? Sì, sì. Allora, com'è deciso di portare un'Under 16 all'allenamento? Ma perché è usanza nostra portare sempre delle ragazze coinvolte nell'occhio e nel nostro spogliatoio per farle, tra virgolette, annusare l'aria che si respira e invogliarle a continuare a fare questo sport meraviglioso. E com'è la situazione dell'Italia? Ma bene, nel momento siamo primi, mi hanno fatto due incontri giocati bene, chiaro che ci possiamo migliorare, però nel momento sono molto soddisfatto. E riguardo la partita contro la Gran Bretagna, cosa ci puoi dire? Ma per il momento nulla, perché penso alla Corea domani, non ci penso neanche alla Gran Bretagna, facciamo un passo alla volta e quindi per il momento non interessa. Grazie. 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 Grazie.